League of Legends Ah ma non ti ha tradito ancora il compa... Ah questo è il punto in cui mor... Quello non è il vero cattivo Amore grazie per non essere uscito con i tuoi amici Ma di che colpa? Non ti stai divertendo, io sentissimo Vai, vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua, vai Ok E quindi tu su che piattaforma giochi? PC Sulla PC Ovviamente certo Io sulla Wii Una bella console eh Il mio gioco preferito è Half-Life 2 Sicuramente dopo l'1 il migliore veramente No ma che... Just Dance Star Wars, è bellissimo Guarda che è una bellissima copertina E poi ha preso 9 su un sito di recensioni Su 10? No su 100 Però oltre il gioco Piero ma tu veramente stai giocando a questa cosa? Ma l'hai vista quelle texture? Un pavimento sembra un soffitto Anzi, nemmeno con questa barba Cioè con questa barba puoi fare un gioco del genere Ma ti sembra? Cioè con tua madre che entro ogni due secondi Anche non si può giocare a sto divano che veramente c'è un colore che non si... Scusami Ti ricordo che è My Little Pony Se proprio vuoi parlare di videogiochi apriti un canale di Youtube E quanto stiamo? 1 a 1, ora facciamo la bella Vabbè dai è facile vincere così Alla Play non conosco i tasti Ma va Vabbè è facile vincere così Alla Xbox non conosco i tasti Ma va Vabbè dai è facile vincere così La mia non era attaccata a niente Ma non è che se ti pieghi vedi dietro gli angoli E ci hai raggiunto Non è che se ti pieghi vai più veloce con la moto E che cacchio ti sei messo in testa? Eh la sicurezza prima di tutto Anneggia a me quando ho cominciato sto cacchio di gioco horror Oh che gioco è? Bello Gioco finito io Davvero? My mother Tua madre Your mother Tu Che schifo è? Vittorio Vitto Da quanto non esci? Aspè In game O nella vita vera? Nella vita vera Vittorio ma questa è merda In game O nella vita vera? Nella vita vera Leva sto cacchio di replay Leva sto cacchio di replay Leva sto cacchio di replay Ehi Sì 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 Ehh Ma Come fa a certa gente a non uscire per giocare a questo gioco Uuuuh kill! Lo senti Maurizio Costanzo? Lo senti? Uuuuh double kill, triple kill, Antonella Clevici, Antonella Clevici, ha 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 ha, monster kill! 4 e 20 no scoop, l'aveva detto Maurizio Costanzo? Uuuuh, Dario ti sei iscritta a League of Legends? Basta con sto League of Legends, non ci gioco! Dai, ti iscrivi a LOL! Mirko sto cacando, per favore esci! Dai iscriviti! Ma allora ti sei iscritto a League of Legends? Basta con sto League of Legends, non ci voglio giocare! Vedi che ci stai già giocando... Pentakill! Si no, comunque hai ragione... Mamma! Un attimo! Sto parlando con i miei amici! Ragazzi io devo andare a cena... Ciao Pia, buona prossima! Comunque taglieri sti cacchio di capelli! La mia non era tornata! Ok! Beh è facile vincere così! Che è successo? È facile vincere così! La mia non era tornata! Iscriviti! E dai iscriviti al canale! Iscriviti al canale! E dai iscriviti a sto cacchio di canale! E dai iscriviti al canale! E dai iscriviti al canale! E dai iscriviti al canale!